Whirlpool anticipa il futuro con i nuovi piani cottura in acciaio Xellium. Dall'applicazione esclusiva della nanotecnologia all'acciaio, nasce Xellium. Il piano cottura in acciaio è estremamente facile e veloce da pulire. La sua superficie impedisce ai residui di cibo di attaccarsi e rimuoverli è semplice e veloce. Basta un colpo di spugna. Lo sporco più ostinato può essere facilmente rimosso con detergenti naturali e delicati, facili da eliminare. L'utilizzo di questi detersivi riduce inoltre l'impatto ambientale. La superficie del piano cottura Xellium rimane brillante e perfetta nel tempo, perché non è necessario utilizzare agenti chimici o azioni meccaniche per la sua pulizia. L'aspetto della superficie è garantita contro opacità e ingiallimento anche alle alte temperature. Esposto al calore di 315 gradi per un'ora, Xellium resiste all'ingiallimento 6 volte in più rispetto ad un piano cottura in acciaio tradizionale. I test che confermano l'elevata resistenza dell'acciaio Xellium all'ingiallimento, ai graffi e alla corrosione causati da agenti chimici e meccanici, sono stati condotti presso i laboratori Tube Rainland Italia. Il nuovo piano cottura Xellium di Whirlpool. Whirlpool, sensing the difference.